Nel 1995 incominciarono le operazioni ETOPS, Extended Range Twins Engine e Operation, le operazioni a due motori in Atlantico. La Ritalia non aveva ancora la certificazione per queste operazioni e quindi la Ritalia si affidò a un equipaggio ANSET australiano, quindi avevamo i nostri 767 con equipaggio ANSET, con la divisa d'Italia, solo che gli equipaggi ANSET usavano un altro sistema di pianificazione, non l'M01 ma il sistema Jepsen. Io mi appassionai al sistema, mi piaceva veramente tanto e mi appassionai proprio ai voli ETOPS, tanto che Bruno Padovano mi dette talmente tanta fiducia che io diventai il referente dell'ufficio operazioni all'Italia con l'ANSET, con il capo operazioni volo dell'ANSET, tanto che non ricordo il nome purtroppo, il comandante dell'ANSET mi voleva per riorganizzare l'ufficio operativo in Australia. Problemi familiari perché logicamente già i figli erano un pochettino più grandi e ha detto tu vai in Australia, non rimaniamo a Roma, quindi è rimasto poi a Roma. In quel periodo incominciai anche a fare addestramento sia ai colleghi per quanto riguarda le operazioni ETOPS, sia agli equipaggi, sempre per il sistema di pianificazione Jepsen, le operazioni ETOPS e le operazioni in Atlantico, tanto che ebbi poi una lettera d'encomio dal comandante Ciccarelli. Tra il 1997 e il 1998 poi si passò al sistema LIDO, le cose incominciavano a diventare un pochettino più serie, ci fu una parte dell'ufficio che si opponeva al sistema LIDO, non ci piaceva molto perché praticamente faceva tutto quanto lui, non ci lasciava molto spazio a noi di scelta. Incominciarono anche le operazioni di Eurocontrol, quindi l'unificazione del sistema di controllo aereo sotto un'unica direzione che era Bruxelles, gli slot molto più articolati e si formò un nuovo ufficio, l'OCC, l'Opression Control Center, che raggruppava più o meno tutti quanti gli uffici, tipo americani, in un unico open space. Io fui mandato da Bruno Paduano come rappresentante dei Fla Dispatch e insieme a Luigi Giannotti diventai responsabile delle operazioni slot AOS, che sono la pianificazione automatica. Dopo Bruno Paduano l'ufficio andò in autogestione, non avemmo più capi uffici per parecchio tempo, dopodiché ci fuori un menagement sbagliato. Cominciamo a vedere un pochettino l'ufficio che si stava degradando, se così lo vogliamo dire. In quel periodo ebbi una mia piccola soddisfazione, ma a livello personale non tanto come Alitalia, perché nel 2007 pubblicai un libro che ricordava la mia vita in marina. L'Alitalia, su un magazine Alitalia pubblicò il mio libro. La copertina del mio libro e fece una piccola recensione sul libro. È stata una mia piccola riscossa. Dopodiché Alitalia stava sempre andando peggio. Io sono entrato in Alitalia quando l'Alitalia era grande e l'ho vista piano piano diventare piccola, ma non per demerito del personale che è sempre stato altamente professionale, ma dei menagement sbagliati, a volte politici e questo poi si è visto con Etihad. Stranamente però c'erano anche persone che si davano da fare come il comandante Campana, che anche lui mi dette fiducia facendomi responsabile del staff enhancement plan, praticamente organizzando dei corsi di aggiornamenti. Questi corsi li organizzai da un letto d'ospedale avendo il tendine rotto tramite mail. È arrivato alla fine che è arrivato a quota 100 e ho detto me ne vado, basta, credo che il mio percorso fosse finito. Ho preferito andare via, ho preferito non vedere ancora di più, l'Alitalia scendere in basso e mi auguro tanto che questo non possa avvenire perché l'Alitalia si merita un posto in primo piano nel settore aeronautico in Italia. Sono andato in pensione, sono in pensione e sono praticamente ringiovanito. Faccio più cose adesso di quando lavoravo quattro nipoti, sto finendo di scrivere il secondo libro, mi dedico molto al modellismo, sono presidente di un'associazione culturale che si occupa di modellismo, faccio sport, mi riposo e mi godo un pochettino la vita. Ah, insegno, insegno ai bambini di scuola elementare scrittura creativa. Questo è un che ricordo sempre tutti con tanto, tanto affetto.